Va bene, scusate, davvero pubblico, io vi prego, ho detto faccio entrare Liana, vado via perché io non voglio più rispondere a nessuna domanda, non te le ho neanche fatte, no, no, ok, perfetto, io sono entrata qua per salutarti, per mettere la parola fine e non voglio più rispondere a nessuna domanda, chiamare questo Marco, non lo stanno chiamando, senza di te non si chiamo io, eh lo devi chiamare Pamela, perché io mi cambio compagno, dove va? La chiamando, è andata a chiamare Eliana, ok, è una situazione paradossale, è andata, se n'è andata, come se n'è andata? Non torna più, come se n'è andata via? Ma no Eliana guarda che faccio, fa una figura terribile, tipo, Pamela, non puoi uscire, non si può uscire lavoro fatto, Pamela, Pamela. Non mi fate foto, ok? Dov'è la produzione? Non mi potete più riprendere, Francesca no, non voglio essere né ripresa, non siete più obbligati a riprendervi, no? E no? Stronzia, mi prendete le valigie per favore, mi chiamate un taxi, come funziona? Stronzia, mi prendete?